Musica Cari telespettatori siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino, un programma che ormai è diventato un appuntamento fisso del lunedì con i sindaci del territorio. Questa sera è nostro ospite il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. Buonasera sindaco. Buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori di Fanno TV. Ricordo che potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci messaggi anche con Whatsapp al 338 49 68 250. Come dico sempre, brevi messaggi di testo ci aiutano molto. Sindaco, ricordiamo che il comune è stato istituito il 1 gennaio 2017 e è nato dalla fusione di quattro comuni, Barche, Barchi, Piagge, Orciano di Pesaro e San Giorgio di Pesaro. Un comune che ad oggi conta 5300 abitanti e lei invece è stato eletto sindaco nel mese di giugno dello scorso anno. Che cosa è cambiato in questo anno e mezzo o comunque da quando c'è stata la fusione? Beh, anzitutto la fusione è un'esperienza nuova, sicuramente stimolante. Ha messo insieme quattro comuni che di fatto collaboravano già fin dal 2003, quindi è una storia lunga. E anche il referendum che ha portato la nascita del nuovo comune è stato un referendum molto partecipato e soprattutto dove i cittadini hanno veramente votato per avere questo cambiamento. E oggi questo nuovo comune ha un passo totalmente diverso per quelli che possono essere gli investimenti e per quelle che possono essere le risposte che effettivamente diamo ai cittadini. Quali sono stati gli interventi più importanti che avete fatto fino ad oggi? I interventi conclusi sono già stati tanti. Molti hanno coinvolto la viabilità che dopo tanti anni, perché i quattro comuni precedenti dovuto al patto di stabilità e anche ad altri problemi burocratici, erano abbastanza rallentati. Quindi la fusione ci ha permesso di rispondere per esempio all'asfaltatura di strade come Campioli, siamo nel municipio di Barchi, era una strada che effettivamente ha bisogno di un intervento importante e l'aspettava da tanti anni. Poi abbiamo asfaltato tante altre strade, sia a Dorciano, nel municipio di San Giorgio di Pesaro, nel municipio di Piagge. Poi abbiamo fatto, probabilmente ne parleremo anche dopo, alcuni tratti di marciapiede a San Giorgio, li abbiamo fatti a Dorciano nei pressi della famosa voragine che c'è stata, che è stata chiusa fortunatamente. E poi anche tutta una serie di piccoli interventi che possono anche dare meno nell'occhio, però sono interventi importanti. Adesso per esempio ce n'è uno che a breve dovremmo inaugurare, era un intervento anche lì atteso da tempo a Dorciano, i bagni pubblici che non c'erano. Poi abbiamo ristrutturato e risistemato l'ingresso al castello del comune di Orciano, quindi anche piccoli interventi, ma effettivamente significativi. Abbiamo per quanto riguarda la viabilità un messaggio che ci è arrivato da una telespettatrice, da un telespettatore, ci dicono, arrivano insomma appunto dei ringraziamenti per quello che avete fatto per la viabilità. Nel nostro comune questi lavori non si vedevano da 20 anni, quindi cittadini soddisfatti. Sì, sicuramente mi fa piacere. Noi stiamo lavorando in questo senso, anche per il prossimo anno abbiamo in cantiere tanti altri interventi. Quindi questo è il miglior modo per poter anche far vedere ai cittadini che la fusione ha portato effettivamente dei benefici. Che poi, messi tutti e quattro insieme, facciamo come dicevi tu, un comune di 5.350 abitanti, non è che siamo una metropoli. Però insomma, uniti vi fate forza, ci sono tanti investimenti che adesso potete fare. Per quanto riguarda la discarica dismessa in località Raffanito di Barchi, lì ci sono degli aggiornamenti? Lì, la discarica del comune che è situata nel municipio di Barchi, gestita dal comune di Terroveresche, di fatto è di proprietà non solo nostra, ma anche di altri comuni che facevano parte della comunità montana, come Fossombrone, oggi Colli al Metauro, abbiamo Sant'Ippolito, Mondavio. E quindi il problema delle discariche chiuse, si è parlato qualche, adesso ieri si parlava della chiusura di Caluccio, il problema è che anche se una discarica è chiusa comunque continua a dare dei problemi all'ambiente. E quindi volevamo, d'accordo con gli altri sindaci degli altri comuni proprietari, trovare un sistema per comunque sia alleviare questo problema, sia per l'ambiente e anche per le tasche dei nostri cittadini, perché in parte la gestione di quello che si chiama post-mortem, che avviene quando la discarica è chiusa, è a carico delle tariffe della tare dei nostri cittadini. E quindi abbiamo fatto un accordo con l'Università di Padova per cercare soluzioni, tra cui ce ne sarebbe una avveniristica, ma non sappiamo adesso al momento se è possibile applicarla da noi, che si chiama landfill mining, che sarebbe lo svuotamento. E quindi la discarica tornerebbe a essere un luogo come prima, perché toglieremo tutti i rifiuti. E su questo intervento la Regione, grazie all'intervento del Consigliere Talè, ci ha dato un contributo di 10.000 euro per finanziare lo studio. Quindi abbiamo già firmato la convenzione, quindi partirà lo studio. Avete lanciato anche l'hashtag tutti a terre roveresche. Qual è il significato? È il significato adesso qualche telespettatore di terre roveresche che ascolterà, sicuramente farà una bella risata, perché durante le assemblee, durante la campagna elettorale, una delle prime cose che diceva era questa domanda. Sapete quanti abitanti perde terre roveresche? Non sapevano rispondere, chiaramente noi lo sapevamo. E terre roveresche perdeva, ossia i quattro comuni insieme, quasi 50 abitanti all'anno. La differenza tra i nati e i morti era meno 50. E allora l'idea di tutti a terre roveresche è una serie di incentivi che dovrebbero aiutare a far venire persone a terre roveresche e soprattutto qualcuno a rimanere, perché non dobbiamo far andare via le nostre famiglie, i nostri giovani. E poi l'altro aspetto, sicuramente ne parleremo, è quello di incentivare le nascite. Infatti ci sono appunto dal prossimo anno dei contributi per le famiglie con bambini piccoli, dei buoni, spesa però da utilizzare nelle attività. Le attività, che hanno un'attività nel comune di terre roveresche, quindi che si trovano nel territorio. Sempre per incentivare sia l'economia che agevolare le famiglie. Ossia di fatto questa misura ci già, è già attiva perché è stata una delle prime misure attivate, quindi il bonus, che può arrivare al massimo a 5.000 euro per ogni nuovo nato. Dal prossimo anno una parte di questo bonus, la metà, verrà dato sotto forma di buoni, che possono essere spendibili solo e esclusivamente negli esercizi che sono a terre roveresche. Questo è un modo per far sì che parte di queste risorse rimangano sul territorio e quindi possono stimolare le attività che ci sono. Parliamo di sicurezza. Avete previsto anche di rendere i cittadini un po' più sotto controllo, ma non solo, perché avete stanziato quasi 67.000 euro per realizzare un impianto di videosorveglianza. Esatto, anche questo era un intervento che serviva, era atteso da tempo, addirittura da quando c'erano ancora i quattro comuni, se ne è parlato tante e tante volte, alla fine, anche se abbiamo fatto richiesta per dei fondi ministeriali che non ci sono stati concessi, abbiamo deciso, perché fortunatamente il bilancio e le risorse ce lo permettono, di investire direttamente noi. Il proprio merito, ci chiedono quando verranno installate le camere? La procedura di gara è già partita, quindi affideremo alla ditta installatrice quest'anno, quindi penso dopo le feste natalizie inizieremo l'installazione di questi cinque varchi, intanto i primi cinque varchi, che danno l'ossatura del sistema, poi piano piano potrà essere implementato. Anche con sistemi di lettura targhe? Questo sarà il sistema di lettura targhe, perché questo tipo di sistema è quello che chiedono e vogliono le forze dell'ordine. Poi nei punti strategici o nevralgici, come per esempio le piazze o nei parchi, potremmo anche pensare di installare la classica telecamera. Un altro messaggio per lei, nel sociale nessuno mai ha fatto come questa amministrazione, quindi continuano ad arrivare messaggi positivi per ora. Mi fa piacere, perché invece c'è qualcuno che dice l'esatto contrario, che noi non investiamo nel sociale, e questa è una delle preoccupazioni più grandi che abbiamo. È sempre difficile ovviamente accontentare tutti, l'importante è mettere in campo dei progetti validi e che possa sostenere le famiglie. Sul sociale non basta mai. È una preoccupazione che io, quando uno va a dormire la sera, uno pensa sia fatto abbastanza, soprattutto per questo. Andiamo avanti con i progetti. Partiamo dall'ampliamento del cimitero di Montebello, Orciano. Esatto, anche questo l'abbiamo già messo nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi lo faremo il prossimo anno. Lì è previsto l'ampliamento di due blocchi, alla fine dovrebbero essere 50 loculi, perché Montebello è una piccola frazione nel vecchio comune d'Orciano, oggi è una località, una frazione di terre roverische. Ed è importante perché lì, a sede, ne parleremo sicuramente non oggi, ma nel futuro, a sede è il palazzo di Montebello, che è la residenza di la via della Rovere, quindi una residenza storica veramente importante, che però non è pubblica, è in mano a privati. Vedremo di riportarla in mano pubblica. Al cimitero di San Giorgio di Pesaro invece? Beh, lì abbiamo risistemato il cortile interno, quindi un piccolo lavoro. Però insomma è importante. Sì, serve sempre. Dobbiamo avere anche una foto, eccola qua, tutto il cortile che è stato risistemato. Per gli asfalti, dicevamo che tanto è stato fatto, ma avete anche in progetto di asfaltare altre strade? Sì, per esempio partendo da, adesso partiamo da, da Barchi, lì prossimando asfalteremo via Gramsci e tutta la via intorno alle mura, poi faremo anche dei tratti di marciapiede. A Dorciano è prevista l'asfaltatura di zone a schieppe, che è una località importante, anche industriale, è un polo insomma che dà la ricchezza al nostro territorio. dopodiché sono previsti altri tratti di asfaltatura, ad esempio Piazzale dell'Indipendenza, che è una via centrale del municipio a Dorciano, via Montepietro, asfalteremo l'ultima parte di strada Convento a San Giorgio, abbiamo strada Roncaglia da sistemare, strada Cerfoglia, a Piagge faremo l'asfaltatura della strada del Montale e a via San Filippo. Quanti chilometri di strade ci sono? 125 chilometri di strade asfaltate e 125 chilometri di strade bianche, qui 250 chilometri, non sono poche. Continuiamo a parlare di viabilità, perché ci è arrivato un messaggio di un telespettatore che ci dice che nella strada provinciale a Piagge e San Giorgio ci sono dei dissuasori, ma non sono vietati? Quelle sono rampe artificiali, fatte con una geometria che è permessa sopra. Noi abbiamo realizzato anche gli attraversamenti pedonali rialzati, poi in alcuni punti, specialmente a Piagge adesso, dove stanno facendo, Marche Multiservizi sta rifacendo l'acquedotto, lì c'è tutto l'asfalto, insomma in condizioni anche abbastanza rovinate, ma poi a primavera quando ci sarà l'asfaltatura nuova tutto sarà più liscio e tranquillo per gli automobilisti. Ed è un modo effettivamente per rallentare la velocità, perché il nostro grosso problema è che noi abbiamo la strada provinciale che attraversa i nostri centri abitati. Anche per le nuove attività, il sindaco ha fatto tanto, le nuove imprese non pagano la Tari, tassa sui rifiuti. Esatto, per i primi cinque anni, non solo le nuove imprese, come diceva il telespettatore, la telespettatrice, ma anche chi porta la residenza a Tereo Avereschi, per i primi cinque anni non paga la Tari. Bene, Dovremmo avere qualcuno al telefono, poi le andrò a leggere anche un altro messaggio che ci è arrivato. Pronto, buonasera. Ci sente? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, può parlare con il sindaco? Buonasera sindaco, ciao Antonio. Buonasera. Sono Remo Dabarchi. Ciao. E io mi rivolgo a te in diretta, come ti avevo già accennato, è che sarebbe bene che la sede dei Vigili, anziché San Giorgio fosse portata a Barchi. Nel senso, prima i carabinieri erano a Mondavio, quindi eravamo molto vicini, e oggi San Giorgio ha la caserma dei carabinieri, e quindi Barchi siamo rimasti un po' sguarniti, siamo anche al limite, e quindi sarebbe bene, secondo me, che Piagge è un tiro di schioppo da San Giorgio, quindi ha i carabinieri lì. E quindi ripeto, tutto qua, noi la sede sicuramente, lo spazio c'è, e sarebbe bene che, come ripeto, che i Vigili venissero da noi. Tutto qua. Ok, benissimo. Grazie Remo. La ringraziamo, sindaco. Buon lavoro e complimenti per tutto. Ciao. Grazie. Grazie al telespettatore, sindaco, che cosa rispondiamo al cittadino. questo è una, Corremo, siccome io ho preso l'abitudine, di non avere una sede fissa, ma io sto un giorno per settimana, in giro nei comuni, quindi lunedì sono a Piagge, il martedì a Barchi, il giovedì a Orciano, il sabato a San Giorgio. Allora, spesso ci incontriamo anche con Remo, mi ha scritto anche una lettera, su questa, su questo desiderata, effettivamente è una cosa su cui, la giunta e l'amministrazione penserà, perché effettivamente oggi, quello che diceva Remo, è che con la fusione, il nostro territorio, che prima aveva due caserme, quando i comuni erano staccati, oggi ha un'unica caserma, quella di San Giorgio, quindi effettivamente abbiamo tutti e due i corpi, quindi i carabinieri e i vigili, nello stesso punto, a pochi metri di distanza, e quindi è una cosa su cui, lavorerete, ragioneremo, certo. Sindaco, come mai nei vari consigli comunali, parla solo lei, non lascia mai la parola al resto della giunta? Non sappiamo se magari, è un messaggio di un consigliere di opposizione, non c'è data sapere. Non penso, però, non è che non parliamo, adesso non so, noi ai consigli parlo io, parlano gli assessori, quando voglio intervenire, i consiglieri, eccetera. Quindi lascia la parola, se voglio la parola è aperta a tutti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, io sono un cittadino di Sant'Ippolito, però passo su quella strada che confina la palazzina, andando giù, fino all'uscita di Serongarina, finquanto era il comune di Occiano, era una strada bellissima, adesso è piena di buche, non lo so se il sindaco sa che anche quella è di terre roveresche. Grazie. Grazie a lei per la segnalazione. Prego, la conosciamo quel pezzetto di strada che collega dall'uscita della superstrada fino al ponte, poi dopo di là è Sant'Ippolito. È stata inserita nel piano? Adesso qualche buca, perché è una strada che io ci sono passato tempo fa, non è messa molto bene, adesso arriveremo anche lì, nell'estrema periferia, quindi la teniamo sotto controllo. Sindaco, sono un abitante di Rupoli, può mettere i dossi artificiali anche nella nostra strada vicino al paese? C'è chi li vuole, c'è chi non li vuole, questi dossi artificiali. Va bene, fa parte, adesso finiamo a fare un sopralluogo, poi sicuramente la signora o il signore ci contatterà in comune, tanto poi vado una volta al mese anche là a Montebello, e quindi vedremo e se è possibile li mettiamo. Parliamo del Palasimone, abbiamo anche in merito un articolo pubblicato lo scorso mese, anzi il 21 ottobre, a firma di Sandro Franceschetti. Ecco, questo è un importante progetto perché stanno volgendo al termine i lavori di arredo esterno, una struttura sportiva, qua c'è anche una bella storia da poter raccontare, di una mamma che ha donato appunto questa struttura, il ricordo del figlio 22enne, rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato sulla Flaminia all'altezza di Cagli. Il sindaco ci può raccontare ecco quello che è stato e quello che invece sta succedendo perché i lavori, come dicevamo, proseguono. Sì, io intanto ringrazio Doriana, ringrazio la figlia Silvia per questo gesto bellissimo che hanno fatto nei confronti del comune di Barchi Prima oggi nel comune di Terre Roveresche. Quindi io posso parlare diciamo per l'ultima parte, i lavori stanno procedendo insomma abbastanza speditamente, abbiamo terminato la parte esterna, stiamo terminando gli allacci delle utenze e quindi ormai non penso che lo inaugureremo quest'anno, però per il prossimo anno, penso per febbraio dovremo esserci. Quindi faremo un bel evento perché questa struttura è stata donata da questa signora alla nostra comunità. Che cosa verrà realizzato all'interno esattamente? Qual è il progetto? È una palestra dove si può giocare a tennis, si può giocare a calcio, a pallavolo e quindi è una struttura in più che metteremo a disposizione delle associazioni del nostro territorio ma anche delle altre. Dovremmo avere anche una fotografia su un marciapiede a San Giorgio che è stato completamente risistemato? Lì, proprio non c'era. Ah, non c'era per niente. Proprio non c'era, lì l'abbiamo rifatto nuovo e questo è un progetto sul quale lavoreremo in maniera importante perché dobbiamo rendere quantomeno al più sicuro possibile il tragitto e il percorso dei nostri cittadini. E anche le scuole sono al primo posto del piano triennale dei lavori pubblici. Ecco, questo campo è molto significativo perché qua entro pochi anni sorgerà un bel polo un polo comprensivo di nido di infanzia e materna. Siamo a Piagge qua. Esatto, qui siamo nel municipio di Piagge questo era il vecchio campo sportivo che le passate amministrazioni hanno deciso di togliere dalla programmazione perché avevano altre idee. Oggi siccome abbiamo fatto domanda nel piano triennale dell'edilizia pubblica e siamo riusciti perché abbiamo avuto un bel punteggio con il progetto che abbiamo presentato ad entrare nel piano non quest'anno ma il prossimo anno e quindi avremo le risorse si parla di circa l'80% su un investimento di 2.250.000 euro che vede la realizzazione di una scuola materna più l'asilo nido che però l'asilo nido che verrà realizzato lì perché noi ne abbiamo già uno funzionante a Barchi lì sarà un asilo nido fatto con il metodo montessoriano quindi per dare anche una possibilità di scelta alle famiglie del nostro territorio. E ci saranno anche degli interventi invece che riguarderanno adeguamenti sismici di altre scuole. Esatto, altri interventi uno perché è già stato finanziato dalla passata amministrazione quando ero sindaco a San Giorgio di Pesaro e prevede l'ampliamento della scuola primaria a San Giorgio dopodiché qui vediamo nelle foto questo è San Giorgio che dicevo prima gli altri due interventi sempre di miglioramento sismico saranno uno alla scuola dell'infanzia a Dorciano 1.300.000 euro e l'altro a Barchi la scuola primaria in via Bartevecchia questa qui che vedete nella foto sono scuole che diventate altamente pericolose o state intervenendo per prevenire? No, sono scuole che non sono pericolose però fatte nel passato con i criteri del passato oggi non rispondono a normative quindi vogliamo far sì che i nostri bambini vadano a scuola in scuole tanto meno sicure sono già partite le verifiche e quindi stiamo andando anche qui velocemente anche queste due scuole sono nel piano triennale di delizia scolastica Buonasera, volevo chiedere al Sindaco che non si deve dimenticare della strada Poggio ci sono delle buche davvero pericolose Bene, allora la signora che è la nostra telespettatrice allora mi ero dimenticata perché oltre a strada conventa sfalteremo anche strada Poggio quindi se riusciamo quest'anno non lo so però al prossimo anno sicuro se c'è qualche buca quella la tamponiamo Si chiuderà Sì, sì Sindaco, la scuola primaria di Piaggio perché non ha un'uscita di emergenza al primo piano? Grazie Proprio perché si parlava anche poco fa di sicurezza Esatto, si parlava di sicurezza dei bambini, dei giovani Adesso la scuola primaria anche quella l'amministrazione precedente quindi del comune di Piaggio ha ottenuto un finanziamento di 430 mila euro 430 mila euro che investiremo lì il prossimo anno e comunque sia nella logica complessiva di questa riorganizzazione poi terremo insomma in qualche modo presente questa problematica affronteremo anche questa le cose sono tante però cerchiamo di arrivare dappertutto E noi invece dopo la pubblicità torneremo ad affrontare tutti gli altri argomenti Sindaco a fra poco Ben ritrovati in diretta Primo Cittadino programma che questa sera è dedicato al comune di Terre Roveresche per poter intervenire in diretta e parlare con il sindaco Antonio Sebastianelli vi ricordo che potete telefonare allo 0721 86 14 33 oppure inviarci messaggi al 338 49 68 250 abbiamo altri messaggi dei nostri telespettatori Sindaco il ponte scarica l'asino quando si riapre visto che crea molti disagi questo lo sappiamo adesso è un ponte che collega la strada provinciale quindi su questo stiamo lavorando soprattutto in prima persona la provincia ma c'è stato il contributo sia del comune di Terre Roveresche che del comune di Colli del Metauro perché collega i due comuni io penso a breve dovrebbe essere terminato lo studio e quindi potremo lì in quel punto sapremo qual è il problema perché il ponte è stato chiuso e quindi puoi capire quale soluzione adottare Ok Il signor sindaco non si deve dimenticare di Spicello e della manutenzione della strada per raggiungere il santuario Lo so ci sono passata anche stamattina perché andavo a vedere una strada di ghiaia che stava per essere sistemata quindi anche questo è una nostra priorità non a caso abbiamo già presentato più volte il progetto per risistemare tutta la strada perché un progetto di quasi 300 mila euro non è poco Progetto sostanziale Un altro messaggio per lei ci chiedono com'è attualmente il suo rapporto con gli ex sindaci non so esattamente perché questa domanda c'è qualche la campagna elettorale scorsa è stata un po' così movimentata un ex sindaco e il capogruppo di maggioranza Maurizio Cionna e poi gli altri qualcuno non le vedo più neanche in giro per il nostro comune quindi un po' fatica Cionna è intervenuto anche sulle rotatorie c'è stata un po' di polemica innanzitutto dove vorreste realizzarle? Allora il progetto delle rotatorie è un progetto anche questo abbastanza importante abbiamo già fatto degli studi e verranno realizzate una piagge nello svincolo che va per Montemaggiore una a Dorciano c'è lo svincolo che porta a San Filippo anche lì un punto pericoloso e l'altra la Fornace Cionna come Cionna che non le ritiene una priorità Sindaco sono una priorità oppure no? È necessario mettere in sicurezza quel tratto di strada? È necessario sempre mettere in sicurezza i tratto di strada perché come dicevo prima abbiamo una provinciale che attraversa i centri abitati e quindi nel passato anche non c'è stata probabilmente ma non attenzione che nel passato le risorse potevano essere anche limitate quindi non è che uno fa la colpa a chi c'era prima assolutamente però è ora di dare una risposta perché tanti cittadini poi su queste strade camminano passeggiano vanno con le macchine hanno anche difficoltà in mettersi nella strada quindi dobbiamo trovare dei sistemi in qualche modo per mettere sicurezza Si contesta anche il fatto che si tratta di strade provinciali? È corretto? Sono strade provinciali all'interno dei centri abitati quindi il comune collaborazione con la provincia può intervenire e invece sugli immobili abbandonati che tipo di intervento state eseguendo? Su quello noi fin da quando ero sindaco a San Giorgio di Pesaro abbiamo attuato un articolo della Costituzione articolo 42 che parla proprio del fatto che se la proprietà perde la funzione sociale quindi in qualche modo uno se ne disfa come fosse un rifiuto questa proprietà ritorna nelle mani da dove è partita l'inizio quindi dal popolo quindi la parte tra virgolette di popolo più vicino al comune è proprio il comune stesso e quindi abbiamo già messo in piedi questo meccanismo l'abbiamo già attuato a San Giorgio acquisendo due immobili chiaramente gli immobili devono avere dei problemi quindi devono creare o problemi alla pubblica o privata in colunità oppure problemi alla salute comunque prima c'è un'ordinanza in cui chiedete determinati interventi diamo un tempo anche abbastanza importante se poi il proprietario non interviene e acquisiamo noi diceva quali avete acquisito a San Giorgio un immobile vicino alla scuola poi ce n'è uno sul castello a San Giorgio poi proprio giovedì scorso abbiamo acquisito un altro immobile a Rupoli che creava un sacco di problemi in abitazioni confinanti ma diversi già poi altri ne abbiamo mappati quindi continuiamo è un modo per cercare di rimettere anche in circolo specialmente nei centri storici il patrimonio che abbiamo abbiamo qualcun altro in linea buonasera pronto? buonasera buonasera prego senta signor sindaco io abito qui a Ricrocio per San Filippo Oceano è ora di farla rotatoria infatti ne parlavamo proprio adesso con Simone grazie infatti ho sentito quindi insomma verrà è in progetto e il progetto l'abbiamo già il progetto è già in fase avanzata quindi abbiamo già studiato perché qui c'è da aver paura uscire di casa lo so signore lo so lo so molto bene perché proprio avete gli accessi carrabili proprio sulla strada provinciale infatti la ringrazio grazie per questa segnalazione buonasera si chiede quando inizieranno i lavori della strada verso San Silvestro ad Orciano interrotta circa quattro anni fa per una frana anche quello è un è un disagio importante perché quella è una strada tutte le strade o comunali o vicinali uso pubblico che siano hanno tutte la loro funzione su quello ci stiamo lavorando e anche questa è una priorità dobbiamo capire che tipo di intervento fare anche perché è una strada importante ma non ha un traffico esagerato e però su questo abbiamo già in mano le perizie dei geologi e quindi poi dopo capiremo che intervento fare io spero il prossimo anno di far sì che questa signora abbia di nuovo la strada a quando una vera palestra nel comune assieme ad un bando per la gestione degli impianti sportivi le palestre nel nostro comune di Terre Roveresche ad oggi ne abbiamo diverse perché abbiamo il palasport di Piagge il complesso che si chiamava bocciodromo perché prima era un bocciodromo oggi non lo è più una palestra a Dorciano e poi il nuovo palasimone che arriverà esatto di cui parlavamo su quello noi con le associazioni stiamo ragionando invece di fare un consorzio con le associazioni che già abbiamo a Terre Roveresche e dare a loro la gestione complessiva delle nostre strutture fra i progetti sindaco c'è anche la copertura della piscina di Orciano chiedono esatto anche quello è un progetto che abbiamo già presentato il GSE per ottenere dei finanziamenti al conto termico e adesso presto entro il 17 dicembre di nuovo parteciperemo a un altro bando al bando sport e periferie 2018 per attingere alle risorse per poter coprire la piscina e riqualificare l'area di vicino chiedono anche se via Merlini sarà risistemata via Merlini ecco mi fa piacere perché così ci ricordiamo piano piano escono sì perché l'abbiamo già nel penultimo consiglio finanziato via Merlini e via Mattei adesso prima dovremo terminare con un vecchio progetto della precedente amministrazione un tratto di fogna e dopodiché a primavera asfalteremo tutta via Merlini e via Mattei abbiamo un'altra telefonata per lei sindaco pronto? non è pronta allora vado avanti con i messaggi che ne abbiamo diversi vorrei sapere se tra i progetti c'è anche la copertura anche questa della piscina di Orciano ce l'ha inviato anche un altro telespettatore e poi se ci sono progetti per il rifacimento del campo da tennis in cemento praticamente impraticabile ci scrivono beh dipende perché noi di campo in cemento impraticabile forse ce n'è uno a San Giorgio e su quello probabilmente investiremo perché sono interventi non particolarmente dispendiosi e quindi lo terremo a mente grazie benissimo andiamo avanti sul consolidamento strutturale dell'edificio a Montebello quello che ospita il centro il centro di urno quindi questo come dicevo prima quando si parlava di sociale è un progetto che sta a cuore a tutta l'amministrazione a tutti gli assessori a tutti i consiglieri comunali che ringrazio per il lavoro che fanno tutti quindi dal vice sindaco in giù senza ordine diciamo di priorità eccetera tutti hanno un ruolo importante e quindi questo qui l'abbiamo già finanziato il penultimo consiglio abbiamo fatto una variazione in cui abbiamo applicato quasi 900 mila euro d'avanzo di amministrazione quindi i progetti ne abbiamo fatti parecchi e quindi anche questo entro quest'anno gennaio verrà fatto l'affidamento e quindi poi partiranno i lavori ancora sulle scuole in particolare sulle barriere architettoniche nella scuola elementare di Orciano ci chiedono quando si farà l'ascensore perché esatto ci sono anche persone con problemi di disabilità lo so questa è una richiesta che ci è stata fatta ci stiamo fare l'ascensore non è così semplice però ci stiamo impegnando anche per portare avanti questa cosa è chiaro che dobbiamo mettere tutti specialmente anche quelli che sono proprio sfortunati nelle condizioni di poter accedere ai servizi senza problemi possiamo dare una data prossimo anno la data adesso non mi posso sbilanciare io spero che nell'arco del 2019 possa essere fatto però il mese non mi sbilancio in merito al tema ambientale cosa pensa di fare l'amministrazione comunale riguardo l'utilizzo del glifosato e più in generale dei pesticidi nelle campagne insomma è un tema importante è un tema importante noi ci siamo abbiamo approvato un regolamento che è quello della provincia di Pesaro leggermente modificato perché c'erano delle cose che chiaramente i nostri agricoltori creavano un po' di problemi perché molte volte noi dobbiamo pensare all'agricoltore che non ha tempo di utilizzare il computer le PEC e quant'altro per segnalare qui dobbiamo agevolarlo pur nel rispetto dell'ambiente e il problema del glifosato è un problema chiaramente sentito prima di tutto prima cosa mi appello agli agricoltori perché tutti hanno il patentino quindi di utilizzare queste sostanze con la dovuta cura nelle condizioni ottimali poi dopodiché già i nostri regolamenti prevedono che chi utilizza diserbanti erbicidi per le attività deve stare a una certa distanza dalle abitazioni quindi questo è già presente nei nostri regolamenti Sindaco il parco giochi di piagge verrà ripristinato entro primavera? Il parco giochi di piagge se è quello dietro il comune già stamattina mi sono accorto che hanno rotto l'altalena quindi la ripareremo e verrà faremo un restyling per primavera di tutti i parchi perché quest'anno abbiamo acquistato circa 40.000 euro dal red urbano e quindi verrà utilizzato su tutti e quattro i municipi per dare una rinfrescata a tutti i nostri parchi per bambini Ancora messaggi per lei marciapiede tra Orciano e la Fornace quando verrà realizzato e cosa pensa di fare alla Fornace? La Fornace l'area della Fornace è un'area privata è di proprietà e quindi su quello noi stiamo spingendo ma abbiamo già un accordo perché quella è la destinazione che il proprietario la demolirà demolirà tutta perché in parte ha già iniziato la demolizione rimarrà solo la ciminiera quindi a simbolo di quello che c'era prima perché la Fornace è qualcosa di storico sia per Orciano che per i territori limitrofi dopodiché lì sorgerà una piazza dove c'è la ciminiera e lì ci sarà il famoso marciapiede che collegherà la piazza con il monumento dei caduti anche lì il prossimo anno è l'anno dei marciapiedi e di tanti investimenti di questo tipo Nel mese di ottobre a Orciano di Pesaro è stato presentato il piano integrato tra il comune di Terre Roveresche e Sant'Ippolito qui si parla di una ciclo pedonale? Sì si parla di questo percorso perché l'idea è questa noi poi siamo insieme a Sant'Ippolito che è un comune che comunque con cui confiniamo che ha una continuità territoriale importante con noi e dicevo nasce questo percorso anche perché noi ne parliamo poi dopo forse alla fine negli eventi abbiamo un evento importante che è la Colle Marathon il prossimo anno sarà il 5 maggio 2019 quindi l'idea era quella di creare un percorso appunto questo itinerario ciclo pedonale accessibile a tutti anche ai disabili perché deve essere accessibile a tutti e quindi su questo percorso che si snoda da barchi più giù fino a piaggi collegato anche alle varie strade secondarie esatto poi dopo verrà collegato in maniera tale che chi è sul percorso può entrare dentro nei centri storici e visitare e su questo la settimana scorsa con l'ultima giunta abbiamo già deliberato l'incarico per progettare tutto quello che sta intorno quindi l'offerta turistica il riposizionamento tutto quello che sono segnaletica turistica e per i turisti perché effettivamente è ora di elevare il livello del nostro territorio qui vi siete già dati delle scadenze questi progetti andranno avanti il prossimo anno specialmente quello della segnaletica turistica di un portale turistico insomma fatto come si deve quindi questo è il prossimo anno perché dovremo essere pronti per il 5 maggio 2019 benissimo come la nuova piazza barchi che sarà la nuova piazza dove partirà la Colle Marathon le strade di campagna chiuse quando verranno riaperte? le strade di campagna chiuse a capire quali perché siamo un po' generici esatto quelle comunali e quelle vicinale uso pubblico le stiamo e le abbiamo sistemate le stiamo sistemando tutte poi ci sono alcune alcune strade alcuni percorsi che nel passato erano altamente utilizzate trafficate oggi e sono state da qualche agricoltore chiuse e su quello ci impegneremo perché non è così semplice però cercheremo di riportare fuori e capire quali erano i vecchi percorsi e poi intervenire anche su questo aspetto diversi messaggi riguardano la scuola media di Orciano in via Monte Palazzino già sono tre messaggi in merito a questa scuola quello è un progetto che è iniziato con la precedente amministrazione ha nel corso dei lavori ha avuto delle problematiche perché sono occorsi ulteriori lavori rispetto a quelli preventivati e quindi il comune di Terre Roveresche insieme al comune di Mondavio perché la scuola è in comproprietà tra il comune di Mondavio e il comune di Terre Roveresche oggi passate dal comune di Orciano e quindi tutti e due i comuni hanno investito altri 320 mila euro di risorse in maniera tale da poter terminare i lavori per il prossimo anno scolastico Il progetto Terre Roveresche credente invece in che cosa consiste? Questo è un progetto sul quale abbiamo investito collaboriamo con dei professionisti del nostro territorio ringrazio Federico Storoni che diciamo fa da promotore e in qualche modo da coordinatore del progetto ed è un progetto che serve a giovani a chi vuole aprire un'attività eccetera e quindi è un supporto per poter vedere se ci sono dei bandi opportunità di finanziamento e anche per quelle che può essere il primo start up quindi le prime consulenze quindi noi abbiamo aperto uno sportello per cogliere un po' tutte le opportunità esatto perché molte volte quello che manca è l'informazione è vero come procedono invece i lavori per la fibra ci chiedono? La fibra sta andando avanti quest'anno è previsto i lavori di di posa della fibra ottica a Dorciano invece i prossimi anni sarà la volta di Barchi Piaggi e San Giorgio di altri tre municipi Nell'ex comune di San Giorgio di Pesaro c'è un luogo di culto piccolino in circa di 30 metri quadri dedicato alla Santa Martire Filomena è a rischio crollo perché insomma si è parlato di questo abbandono degrado e innanzitutto chi dovrebbe intervenire? non è proprietà del comune dai nostri archivi quindi presumo possa essere o della parrocchia o della curia non lo so faremo anche noi delle verifiche abbandonata da che mi ricordo io non si diceva messa da quando ero piccolo quindi forse da prima già era stata sconsacrata eccetera ha una storia molto lunga perché poi ci sono dei libri raccontati chi l'ha costruita eccetera non penso che sia a rischio crollo anche se io non è che faccio il tecnico quindi non lo so ma non penso che sia a rischio crollo è comunque una cappellina pregevole so che ultimamente è stata tra virgolette riscoperta dall'architetto Polverare di Piagge e quindi io spero che adesso un po' di sensibilizzazione possa nascere perché sarebbe bello restituirla a quello che era il decoro originale Sindaco altre domande dei telespettatori e poi chiudiamo con gli eventi quando metteranno un'ambulanza del 118 a Orciano per coprire meglio il nostro territorio con tempi di interventi lunghi allora questa qua è un progetto nel quale anche noi ci siamo impegnati questa amministrazione la stessa regione Marche ha deliberato l'ulteriore posizionamento di una ambulanza di tipo B sul territorio di terre roveresche e quindi adesso noi proprio in questi giorni stiamo ragionando con la cooperativa articolo 32 con la fondazione articolo 32 per trovare la locazione insomma il luogo dove posizionare l'ambulanza e quindi anche qui insomma ci stiamo adoperando poi non riusciamo a rispondere a tutto a tutti però ce la mettiamo l'impegno ce lo mettiamo Sindaco siamo quasi al termine parliamo di eventi innanzitutto l'albero di Natale voi non ne avete soltanto uno noi abbiamo quattro uno per ogni ex municipio e per forza e l'accensione per quando è prevista l'accensione l'8 di dicembre noi rimaniamo tradizionalisti non anticipiamo abbiamo anche poi ne abbiamo un altro per essere precisi cinque cinque perché ce n'è uno che non facciamo noi ma fa un'associazione che è la Siforistrada che è il Lago delle Rose bello luogo bellissimo di barchi ci mandavano anche messaggi per fare i complimenti anche su questo quindi quello lì anche lì accenderemo alle cinque quello a barchi e poi alle sei e mezza quello al Lago delle Rose e gli altri dicevamo ci sono tante iniziative ad esempio una che si svolgerà il 21 di dicembre e si intitola sulle note del Natale eccola qua la locandina in questo caso si tratta di concerti corali nella chiesa di Santa Lucia a Piagge con inizio alle ore 21 e 15 protagonisti sindaco due cori sì il coro Gaudium Voci di Tereo Veres che è il coro malatestiano giovanile di Fano e il coro è proprio il nostro quindi noi siamo fortunati perché abbiamo il coro poi più avanti avremo il concerto il 26 di dicembre della banda il concerto di Santo Stefano di Santo Stefano che è questo famoso è una ricorrenza quindi grazie alla banda Garavini e grazie al coro Gaudium Voci se poi abbiamo tante altre anche iniziative più piccole ma importanti che si svolgono in tutto il territorio ad esempio la corsa dei Babbi Natale la dodicesima edizione dodicesima edizione che parte da Barchi a Piaggia quindi è una sorta di colle marathon molto ridotta però anche qui è un modo per fare beneficenza e solidarietà 11 chilometri e mezzo esatto potranno partecipare tutti tutte le persone io non so se la faccio lei forse rinuncia no rinuncia magari cammina no no posso anche correre piano con calma e ci sono anche altri eventi il 22 credo ci sia qualche altra iniziativa nel suo comune sì il 22 abbiamo un'iniziativa presso il palazzetto dello sport di Piaggia organizzato dall'assemblea delle associazioni che si intitola viviamo l'atmosfera del Natale quindi con i bambini eccetera poi avremo il pranzo degli anziani il 15 di dicembre quest'anno ancora fatto con gli anziani gli anziani non sono anziani quelli che hanno un po' più esperienza del comune di Barchi il prossimo anno invece cercheremo di farne uno unico con tutti e quattro i municipi Sindaco chiudiamo con questa domanda in realtà come dicevamo all'inizio di questa puntata lei è stato eletto a giugno dello scorso anno ma già in tanti ci chiedono se pensa di ricandidarsi alle prossime amministrative o addirittura alle regionali guardiamo un po' guardiamo oltre adesso ho preso l'impegno per questo mandato poi dopo ancora un anno e mezzo quindi tempo ce n'è per riflettere per fare l'esperienza è bellissima e cerchiamo insomma di portare avanti il più possibile i nostri progetti grazie Sindaco davvero per essere stato nostro ospite qua a Primo Cittadino grazie Simona grazie a tutti colgo l'occasione per augurare tutti buone feste ringrazio anche il regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora e vi ricordo che fra poco dopo il telegiornale di mezzasera trasmetteremo la partita di pallavolo di serie A2 che si è disputata tra la Golden Plus potenza piccina e il Mondovì grazie di nuovo al sindaco di terre roveresche Antonio Sebastianelli grazie a voi grazie e buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori arrivederci grazie a tutti i nostri telespettatori 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 grazie a tutti i nostri telespettatori